Signor Sindaco, è venuto fuori un caos per lo spostamento della mensa del povero, che cosa possiamo dire? Che un problema c'è, cioè non c'è dubbio che persone che vivono situazioni di disagio vero e anche a volte drammatico, concentrate in quella situazione un problema lo creano, su questo non c'è dubbio, non ne sto facendo una colpa loro, dico che c'è un problema reale, nessuno pensa ovviamente di esiliarli nel deserto, ci mancherebbe altro, quindi forse anche il consiglio Menichelli, come posso dire, l'ha un po' drammatizzata la cosa, nessuno pensa assolutamente di scacciare i reietti, non è questo, se tratta di trovare una soluzione, e ci si ragiona ovviamente, se tratta di trovare una soluzione che da un lato continui a fornire un servizio essenziale come quello che viene offerto dalla mensa cosiddetta di padre Guido, e dall'altra di trovare anche i modi però per che la convivenza civile tra tutti e in quella parte del centro in particolar modo sia garantita, insomma, allora che lì ci sia un problema per lo stazionamento di persone che sono anche costrette per ore a aspettarli fuori in fila, eccetera, sia un problema che crea disagio a quelle persone e a chi ci vive intorno, questo mi pare evidente, quindi calma e con un po' di serenità ci si ragiona e se trova una situazione giovane senza bisogno di partire sul corpo di nessuno, tantomeno del Monsignor Menichelli.